Buongiorno, ben ritrovati carissimi telespettatori di FanoTV, questa è la rassegna stampa occhio ai giornali in diretta delle 7.30 del mattino. Vediamo subito il santo del giorno perché oggi festeggiamo un patrono importantissimo, è il patrono d'Europa, San Benedetto da Norcia, nato nel 480 a Norcia. Il suo motto era Ora et Labora, cioè preghiera e lavoro, che fu il programma appunto di Benedetto e dei suoi frati, programma valido anche per la giornata di oggi. Salutiamo anche coloro che ci seguono su internet, il sole è sorto alle 5.36, 20.51, dicevo, salutiamo anche quelli che si stanno aggiungendo in questo momento sulla nostra pagina Facebook, per esempio anche Anna Boiani che ci scrive e ci guarda da Bergamo, Maurilina, poi Melissa, Luisa, eccetera, eccetera. Insomma, un saluto a tutti voi. Andiamo a vedere le previsioni del tempo adesso con il sito della Protezione Civile delle Marche. Per oggi, mercoledì 11 luglio, prevedono cielo sereno o poco nuvoloso, ma durante le ore centrali ci saranno brevi ed isolati piovaschi, più probabili nelle zone appenniniche meridionali. Domani invece, giovedì 12, il tempo sarà sereno o poco nuvoloso e venerdì 13 luglio ancora cielo sereno o poco nuvoloso con temperature senza variazioni di rilievo. Nei prossimi giorni, quindi il fine settimana, la tendenza è di tempo stabile, soleggiato per la giornata di sabato. Poi però, per domenica, un temporaneo peggioramento per un debole cedimento della struttura anticiclonica. Ma cercheremo di essere più precisi leggendo le previsioni, guardando le previsioni nei prossimi giorni. Adesso, prima di andare a leggere i giornali, andiamo a vedere il nostro sito internet, occhioalanotizia.it, perché ci sono due notizie della sera e anche della notte. Allora, andiamo a vedere il sito internet, dicevo, occhioalanotizia.it, lo andiamo a vedere. Ecco qua, allora, in apertura abbiamo l'ennesimo cassonetto dato alle fiamme, questa volta però a Pesaro, non a Fano, vicino alla sede della CGL, della sede del sindacato. Allora, andiamo a vedere il filmato che troverete su YouTube, questa è l'immagine che sto facendo andare appunto sul nostro portale. Si tratta di, vedete, il nostro reporter di strada sta facendo vedere con una piccola panoramica anche che lì vicino c'era una macchina, un appunto. E poi c'è l'altra notizia che troverete sul nostro sito internet che riguarda la tombola di San Paterniano. Fanesi piglia tutto, questo è il titolo, alla tombola di San Paterniano, la fotografia per i tre vincitori, sono i tre vincitori della quaterna, della cinquina e della tombola. E sono andati tutti ai giocatori fanesi, lasciando forse per la prima volta i turisti a bocca asciutta. Forse, inteso come prima volta, può darsi anche che è successo in altre occasioni. Però, comunque, quella di ieri è andata tutta ai fanesi, i premi sono tutti andati ai fanesi. I loro nomi sono Bianca Antinori, ha vinto la tombola, Patrizia Muratori, la cinquina, e Alessandro Biagetti, sempre di Fano, la quaterna. E adesso andiamo invece a vedere i giornali. Cominciamo dal resto del Carlino, questa è la prima pagina in apertura, la fotonotizia, addio a Pesaro Studi, l'esperienza dell'università è agli sgoccioli dopo lo stop del comune, lasciata la sede, problemi per il corso di infermieristica che è indispensabile. E poi i negozianti si convincono, ma il SILP, il sindacato di polizia, scende in piazza sulla questione della nuova questura che verrà trasferita all'ex intendenza di finanza. Il sindacalista Lanzi guida la contestazione al comune. E poi, lo vedremo tra un istante, l'incidente cui è rimasto vittima dei grave ricoverato al Torrette di Ancona, dopo aver preso una buca con la sua moto, un noto bagnino fanese. E allora ripartiamo da qui, ecco la fotografia innanzitutto della moto a terra e del motociclista Marco Talamelli, che adesso si trova in rianimazione, dicevo, al Torrette. 29 anni, il prossimo 17 agosto, figlio dell'altrettanto noto Mauro, con cui condivide il lavoro di bagnino ai bagni La Baia, a Baia Metauro. Alle 20 circa, il giovane centauro di Rosciano si è fermato in un bar a Carrara per comprare un pacchetto di sigarette. Poi, dopo essere ripartito, ha perso il controllo della sua motocicletta. E i particolari li troverete sul giornale di questa mattina. Anche qua, altro cassonetto incendiato, questa volta in Viale Battisti, si parla però a quelli di Fano. Il quarto caso in una settimana. Dalla pagina invece principale del Carlino di Fano, siamo da tutelare, non da combattere. Parlano i gestori del baretto, quello che si trova nella spiaggia dell'Arzilla. Intervengono dopo gli arresti per droga nella Movida. È nell'interesse di tutti, dicono, avere un luogo controllato per divertirsi in sicurezza. E poi si parla di un misterioso arresto a Gimarra, davanti ai clienti del distributore Agip. Uno spettacolo che sembrava tratto da una scena di un film poliziesco. Quello che si è portato davanti agli occhi dei clienti dell'Agip di Gimarra ieri pomeriggio, in realtà pare che appunto fosse tutto vero, in attesa di capirne di più. Dalla pagina di Pian del Bruscolo riparte la centrale idroelettrica del mulino di Pontevecchio. Siamo a Talacchio, venerdì l'inaugurazione. È un pezzo di storia finanziata dal Consorzio di Bonifica per 2 milioni e mezzo di euro. Urbino, urbino ora togliamo, anzi l'amianto dal cantiere ex Osca. Lorena Galuzzi, liquidatore giudiziale del Concordato, ha avviato i lavori. E poi le mie lamentele da Fossombrone sulla sanità sono diventate ormai inutili. Parla il presidente del comitato pro ospedale, Savrio Bossi, che dice, aggiunge, contano solo i bollettini di Ceriscioli. Poi da Urbagna arriva la notizia che l'Ibis, che ha fatto la sua comparsa per la prima volta sulle spiagge fanesi, adesso è arrivato appunto a Urbagna. Sono stati avvistati diversi esemplari. E l'Ibis, sacro lo ricordiamo, è rarissimo e per casa si è scelto la campagna Durantina. Quindi dopo aver fatto le vacanze al mare, adesso è tornato e è andato in campagna. Apriamo invece il Correo Adriatico per vedere le notizie in primo piano sulle edizioni di Pesor Urbino. Frode fiscale transnazionale, sigilli e beni a beni per 11,6 milioni di euro. Inchiesta Giuliani, il Tribunale del Riesame rigetta il ricorso. Tutti gli indagati e le società coinvolte nelle due pagine dedicate appunto a questa inchiesta. Ambulanti senza paura, in vigore il regolamento che vieta la vendita di abbigliamento sulle spiagge, ma ieri le bancarelle e i bazar sulle spiagge pesaresi improvvisate erano ancora in piena attività. La pagina di Fano del Corriere Adriatico. Il mare si riempie di mucillaggini, le barche non possono pescare, allarme della marineria, le reti appesantite da una eccezionale fioritura algale. E poi sempre dalla pagina di Fano, appello per l'accoglienza e contro le povertà, sono parole usate nell'omelia in Basilica del Vescovo Trasarti che ha espresso richiami all'attualità. Ieri era il patrono della città di Fano. Poi questa è una notizia incredibile, però è tutta vera. Cantano in cinque dentro un'automobile, eppure la vettura è stata multata. Per il Vigile Urbano si tratta di rumori molesti. Curiosa sanzione recapitata da San Costanzo al proprietario del veicolo. Lo trovate nelle pagine del Corriere Adriatico di questa mattina in Edicola. L'infrazione è stata commessa da un gruppo di amici durante il transito nel comune. Cioè questi passavano con la macchina, questi cinque ragazzi a bordo di una macchina, passavano lì per San Costanzo. Era il 2 giugno, giornata di festa. Ebbene, cantavano a scorciagola, cantavano ad alta voce. Ebbene, sono stati sanzionati per rumori molesti. Erano le 19.30, manco fosse stato le 2 di notte, insomma. Alle 19.30 del pomeriggio, è arrivata questa multa. Curiosa. Donna trovata, e qui ci facciamo di nuovo seri, Donna trovata morta in casa, la cronaca da Pesero a dare l'allarme il suo cagnolino, l'intervento dei vigili del fuoco in via Mazzini. Per entrare sono state segate le sbarre della finestra. L'allarme, dicevamo, l'ha dato il cagnolino, da cui non si separava mai. Tanto che si vedeva spesso passeggiare in centro. Ieri mattina proprio il cagnolino abbaiava disperato, perché la sua padrona non si muoveva, era ferma a terra sul pavimento dell'abitazione di via Mazzini. Ed è morta questa donna di 38 anni, che appunto è stata trovata senza vita all'interno di questa abitazione. Poi, la sede della Questura a Pesero. Questo è il rendering, cioè come dovrebbe venire fuori nella realtà. Questo è un disegno fatto al computer, vedete questo piccolo centro commerciale in Piazza del Popolo a Pesero. Questo piccolo centro commerciale, questa struttura per i negozianti dovrebbe ospitare questi commercianti che durante i lavori, per far traslocare la Questura dove c'era prima l'intendenza di finanza, dovrebbe ospitare questi commercianti che durante i lavori avrebbero difficoltà a tenere aperta l'attività commerciale se restassero nel palazzo dove si aprirà, verrà trasferita la Questura. Ci sarà questo sitino in piazza, il SIULP, il sindacato di polizia, non vuole arrendersi, incassa il sostegno di Fratelli d'Italia nella battaglia per evitare che la Questura vada dove c'era prima l'intendenza di finanza. Dalla Valle del Cesano, Contaminazione di Sensi, questo è il titolo, grazie alla poesia di Dante, domani sera la Divina Commedia, la fusione tra versi, voce e note musicali. Quindi appuntamento all'ex fabbrica Silvestrini. E poi la cronaca con una moto che finisce fuori strada, sono gravi padre e figlia, siamo a San Lorenzo in campo, un incidente grave ieri pomeriggio intorno alle 17.30 lungo la ex strada provinciale 424, una moto con a bordo un uomo e una ragazzina che procedeva da Pergola verso San Lorenzo in campo a San Vito sul Cesano, vicino al distributore di benzina, è uscita fuori strada, è intervenuta anche l'eliambulanza. Da Senigallia invece la grande festa della Rotonda, ma non chiamatela Notte Bianca, il sindaco Mangiolardi annuncia una serata piacevole, ma senza eccessi, non vogliamo ragazzini ubriachi che finiscono all'ospedale. E poi si parla di un trenino, il trenino alla scoperta della città di Senigallia, il Senigallia Explorer parte dal piazzale della Libertà e passerà poi ogni mezz'ora per fare il giro. Poi andiamo a vedere queste due pagine, anzi la pagina di Fano, la seconda pagina di Fano del Corriere Adriatico, anche qui si parla di cassonetti incendiati, boato nella notte gli autori dei raid restano ancora ignoti, escalation del vandalismo in Viale Battisti, il commissariato conduce le indagini e bisognerà capire e vedere adesso se le telecamere che sono numerose adesso in città possano in qualche modo dare un aiuto alla polizia, al commissariato. Poi anche qua la notizia del giovane operato per otto ore, l'incidente è avvenuto a Carrara, il 29enne Talamelli che appunto è stato portato alla Torrette di Ancona dopo questo brutto incidente avvenuto sulla Flaminia. e il Corriere Adriatico dice il padre Mauro gestisce una concessionaria balneare a Fano, drammatica la sua testimonianza, dice mi hanno telefonato in spiagge, mi hanno detto di correre perché mio figlio aveva avuto un incidente, sono riuscito a raggiungerlo prima che lo portassero via, poi ho seguito l'ambulanza e dopo un'ora l'ho persa perché andrava troppo forte e per poi raggiungere l'ospedale di Ancona. Allora forza Marco e forza naturalmente anche alla famiglia come avviene in questi casi, insomma tutti quanti siamo vicini alla famiglia. Bene, ci fermiamo qua. Grazie per essere stati con noi, la rassegna stampa torna domani mattina alle 7.30, noi invece questa sera ci rivedremo alle 20.30 con il telegiornale e vi annuncio che subito dopo il Tg ci sarà un approfondimento in studio con il Presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, che sarà qui nei nostri studi, per parlare ovviamente di sanità. Grazie per essere stati con noi, buona giornata a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.